Ciao a tutti, vediamo come possiamo comprare la nuova espansione di City Skylines, Plasas & Promenade a basso prezzo. Sotto in descrizione avete già i link che portano a questi store, io vi faccio vedere e scriviamo Plasas, dovrebbe uscire subito, eccolo qua. Vediamo, mostra dei risultati, abbiamo un solo prodotto acquistabile che è globale, quindi può essere scattato in tutto il mondo, benissimo, e il risparmio è il 44%, niente male. Apriamo, vedete non dovete prestare attenzione più di tanto alla chiave perché è globale, Steam, quindi lo riscattate su Steam e può essere attivato in Italia, vedete fate sempre attenzione a queste cose. Se non sapete come attivare una chiave su Steam abbiamo noi la guida sul canale e inoltre guida all'attivazione qua sotto è riportato. Vedete che qua mostra 11.99 ma avete anche altri venditori su cui potete fare riferimento, in questo caso prendiamo lui e da qua faccio semplicemente aggiungi al carrello. Visualizzo il carrello e vedete che ho aggiunto la versione che mi costa 8 euro e 32, sempre Steam, sempre chiave globale. Rimuovo da qua, vediamo velocemente anche su Instant Gaming, è qua già in home, 7.99 quindi ci costa anche meno a sto giro. Ci basta fare acquista ora, qua sotto poi vi mostra come attivare il prodotto allo stesso modo su GDA, non lo vediamo perché tanto il discorso è lo stesso. Eccolo qua, è già in home ma qua costa 10 euro, quindi nel momento fate comunque un controllo più avanti, il miglior posto su cui comprarlo è Instant Gaming. Ecco qua, se avete bisogno di altre guide vi basta lasciare sotto un commento. Ciao ciao!